ciao, ciao tesori miei, come state? spero tutto tutto bene allora, sei pronto per rilassarti? oggi sono qua per farti tante tante coccole per farti addormentare mentre ti accarezzo questa faccina tua bellissima che hai ti ricordo che se vuoi più video in italiano dare like a questo video e commentare qua sotto cosa ti piacerebbe in un ipotetico prossimo video in italiano adesso si mettiti comodo comodo e spero che ti possa rilassare con questo video che ho portato specialmente per te ti invito a iscriverti al canale se ancora non lo sei e da oggi in poi prometto di caricare molto più video in italiano adesso si, rilassate ciao ciao tesoro come va? io voglio rilassarti farti sentire molto molto bene accarrezzarti accarrezzare la tua faccina finché tu possa addormentarti profondamente profondamente senti come le mie mani passano per la tua faccia per tutto il tuo viso e ti accarezzo e ti accarezzo suovemente sinceramente piano 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 delle coccole lente lente per farti per farti addormentare e farti sentire molto bene molto molto bene molto molto bene ti voglio far sentire molto coccolato 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 con le mie occhie di faccia solo 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 senti come le mie dita passano piano piano per il tuo viso per farti dormire per farti rilassare ti faccio le goccole le goccole ti accarezzo piano 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 passo le mie mani per il tuo viso ti faccio un massaggio rilassante rilassante e ti faccio sentire molto molto formicolio formicolio colio 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 achillo molto bene ti stai addormentando, inizi a sentire molto sonno, hai molto sonno, ti senti addormentato, senti un formicolio nella testa, formicolio sul viso, formicolio nel collo e ti stai addormentando addormentando profondamente mentre ti accarezzo il viso, piano piano, lentamente, accarezzo il tuo viso, lentamente è arrivato il momento di fare la nina nanna, la nina nanna con Sasha, nina nanna, nina nanna 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 n nanani nanana nanani nanana nanani nanana adormire 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 mio piccolo tesoro lo sai che tu sei molto speciale e meriti il meglio meriti di dormire molto bene con le cocole le cocole le cocole io passo lentamente il mio pennellino magico del sonno sul tuo viso e inizi a sentirti molto stacco senti tutto il tuo corpo un po' pesante e perciò ti senti molto molto sonno e ti senti molto rilassato perchè ti sto facendo le cocole e le carenze e le carenze sul tuo viso con il pennellino del sonno che ti fa addormentare profondamente ti addormenti profondamente senti molto senti molto sonno 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 sonio 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 a presto io inizio a salutarti ti auguro una buona notte una buona notte e sogni ti invio un bacione grande grande e ci vediamo nel prossimo video di ASMR in italiano specialmente per te ciao ciao di sormio ciao